Gherardo Cafaro, il patron della Glutinete, dici sempre che deve essere l'ultima edizione ma ogni anno migliora questo festival e c'è stato un grande riscontro anche di pubblico e soddisfatto della manifestazione che è stata eccezionale, tutto perfetto, dei suoni limpidissimi che di più credo che non si poteva fare anche l'apporto della gente è stato notevole, è una manifestazione piena di tanto lavoro però alla fine una grande soddisfazione e diciamo anche che quest'anno tra virgolette te la sei godita un po' di più perché ti abbiamo visto più in mezzo al pubblico perché abbiamo fatto un gran lavoro prima, poi l'esperienza ci insegna tante cose e quindi ci ha permesso anche di gestire la manifestazione durante il suo svolgimento in un modo diverso. Tu mi dirai che questa è l'ultima edizione ma io non ci credo e quindi la domanda ce la faccio lo stesso. Stai già pensato all'edizione del 2018? No, in realtà da qualche anno non sto dicendo che questa è l'ultima edizione però è tutto un pull interrogativo perché i rischi sono troppo alti e quindi andare ad affrontare un festival di queste proporzioni da parti e poi andare ad affrontare un po' di fedra